Balzano Consulting Group. Seguiamo i tuoi lavori di ristrutturazione dall'inizio alla fine. Pensiamo a tutto noi. Siamo esperti nella redazione della relazione tecnica integrata in caso di compravendita. E ricorda, il super bonus del 110% è valido fino al 2025 per questi comuni. Fidati anche tu dello studio Geometra Balzano Consulting Group. Passione e competenza in campo, ogni giorno. Noi di RB Plast abbiamo tutto quello che ti serve. Da sempre siamo rivenditori di tapparelle ed infissi in diversi materiali come PVC, alluminio e legno alluminio. Porte da interno della ditta Ferrero Legno, porte blindate, grate di sicurezza, zanzariere e persiane. Vieni a scoprire tutti i nostri prodotti e approfitta delle nostre condizioni vantaggiose nello showroom di Via Flaminia 300 a Pesaro. Comis, a Pesaro dal 1994, opera nel settore della progettazione e realizzazione di sistemi di trasporto a olio e gas grazie alla competenza del proprio staff. 100 dipendenti, con tecnici altamente qualificati. Tramite il proprio sistema di gestione integrato qualità, ambiente, sicurezza e responsabilità sociale, Comis implementa continuamente le proprie risorse e le capacità tecnico-professionali per garantire ai propri clienti servizi integrati di progettazione e direzioni lavori di elevata professionalità, sviluppando sistemi innovativi e a basso impatto ambientale nel settore dell'oile e gas. Comis, progettiamo le infrastrutture per andare a tutto gas. Buonasera e benvenuti ad Amministrando, il programma di Rossini TV che vi condurrà fino alle elezioni prossime amministrative e che vi farà conoscere tutti i candidati. Oggi con noi ci sono Andrè Biancani, consigliere regionale del PD. Buonasera a tutti gli telespettatori. E poi abbiamo Giacomo Rossi, dei Civici Marche. Buonasera a tutti. Allora, comincerei proprio subito da Rossi per capire, diciamo, per le prossime tornate elettorali, quindi per le prossime amministrative, quali sono le compagini che scendono in campo e nel senso l'importanza delle liste civiche. Le liste civiche che peso avranno, soprattutto nel nostro territorio? Allora, innanzitutto tengo a dire che Civici Marche è l'unico movimento civico strutturato in tutto il territorio regionale. In regione appoggia la coalizione di centrodestra e in linea di massima rispecchierà sostanzialmente la composizione regionale ed appoggerà nelle maggiori città dove si va al voto il centrodestra, fermo restando che poi nei paesi più piccoli possono esserci altre dinamiche ancora più civiche, diciamo che non rispecchiano poi le coalizioni standard di centrodestra e centrosinistra. E' chiaro che anche qua a Pesaro saremo a fianco del rinnovamento e aiuteremo sia sia Civici Marche ma come movimento civico il centrodestra per proporre un cambiamento dopo tanti anni. Come analisi possiamo dire che una lista civica ha senso perché i cittadini si mettono insieme e superano il partito? Che tipo di analisi possiamo fare? Che bisogno c'è? Allora il civismo rappresenta i problemi dei cittadini al di là delle ideologie e degli schemi che oramai sono anche desueti secondo noi. Quindi il civismo cerca di dare delle risposte più concrete e più vicino al cittadino ed è anche per questo che il civismo in tutta Italia sta dilagando, sta crescendo anche in città grandi come appunto Pesaro. Noi tra l'altro siamo strutturati anche con un ufficio, con una sezione proprio pesarese con tanto di tesserati sicuramente daremo manforte alla coalizione di centrodestra come dicevo prima per proporre un'alternativa dopo tanti anni. Quindi troveremo una lista? Certamente, troveremo una lista civici Pesaro in appoggio della coalizione di centrodestra. Abbiamo partecipato alle prime riunioni con le altre forze politiche per appunto ragionare sul programma e sull'eventuale candidato sindaco. Secondo me siamo nella buona strada e potremmo, perché no, secondo me proporre anche quello che è stato già fatto a Dancona, un ribaltone storico. Biancani, qui si parla di ribaltone storico, ma anzitutto noi dobbiamo chiarire, lei, come sa è uno dei papabili per essere candidato sindaco, a che punto siamo, è in vantaggio, è in svantaggio, c'è questo binomio Vimini-Biancani, tutti lo vogliono sciogliere. So che presto, ma io la domanda gliela devo fare perché siamo qui a posto. Hai fatto bene a farla e ti ringrazio sicuramente. In realtà noi siamo nella fase come Partito Democratico e anche come coalizione dell'ascolto. Personalmente ho dato la mia disponibilità, ovviamente non era sicuramente scontata. Oggi il Partito Democratico sta facendo tutta una serie di incontri con gli iscritti simpatizzanti per capire chi di noi è in qualche modo la persona giusta. Stiamo facendo anche un confronto con gli alleati, soprattutto con quelli che sono i partiti che fanno parte oggi della maggioranza del governo comunale e comunque probabilmente prima di gennaio il nome non dovrebbe uscire fuori, anche perché questa fase di ascolto è sicuramente una fase importante che dirà chi può essere il candidato migliore per riuscire a mantenere questa città, per riuscire a governare questa città che dal mio punto di vista negli ultimi anni è una città che è stata ben governata. Si arriva a una scelta diretta o ci vorranno le primarie, secondo lei? Qualcuno chiede le primarie, qualcuno no, io mi auguro che non ci siano perché penso che dovremmo trovare all'interno del Partito Democratico e della coalizione comunque un candidato che possa raccogliere le volontà di tutti e se poi ci saranno le primarie faremo le primarie, ma personalmente mi auguro che non ci siano perché molte volte anche quello che è successo, faceva riferimento anche il consigliere Rossi molte volte sono anche l'occasione per creare tensioni, noi oggi abbiamo bisogno di tutto tranne che di tensioni, abbiamo bisogno di unità e quindi dal mio punto di vista se riuscissimo a individuare un candidato senza fare questo percorso sarebbe ancora meglio. Rossi ha detto ribaltone, lei cosa dice? Ma io penso che la situazione di Ancona è una situazione dove c'è stato questo ribaltone anche perché il primo ad essere diviso era il Partito Democratico, non si è riusciti ad allargare l'alleanza a tutte le forze che oggi sono all'opposizione anche dal punto di vista di governo centrale e quindi a Pesaro questa situazione al momento non c'è, ma ripeto noi faremo di tutto per mantenere ben salda il centro-sinistra nella città di Pesaro. Allora resto da lei perché insomma il sindaco Matteo Ricci lascia un'eredità molto pesante 10 anni insomma trascorsi con lui che hanno portato Pesaro anche a una dimensione più nazionale, quindi le chiedo se lei dovesse essere sindaco quali sono le cose che dovrebbe fare in continuità o comunque potenziare diciamo le prime cose nei primi 100 giorni di governo? Beh devo dire che qualsiasi sindaco da sostituire non è semplice, quindi ogni sindaco, ogni persona porta ovviamente il suo vissuto, la sua esperienza, la sua visione del futuro. Io penso che questa città sia caratterizzata per essere una città solidale dove le politiche sociali sono comunque importanti, le politiche della famiglia, le politiche legate alle politiche educative, quindi da questo punto di vista io direi che bisogna mantenere sicuramente forte quello che è l'aspetto sociale e delle famiglie perché penso che questo sia la priorità. Dall'altra parte in questi anni si è sviluppato molto il tema della cultura, ovviamente Pesaro nel 2024 sarà capitale della cultura, quindi bisognerà investire sicuramente sulla cultura con un'attenzione particolare, questo lo voglio dire, rispetto a quelle che sono le esigenze quotidiane dei cittadini, mi riferisco alla manutenzione della città, saranno tante le nuove opere grazie ai fondi che la città di Pesaro è riuscita a prendere, col PNNR, con i fondi nazionali, con i fondi regionali. Quindi diciamo che ad oggi abbiamo moltissimi soldi per recuperare molti dei contenitori che sono stati chiusi o comunque necessitavano di essere qualificati e oggi se c'è una necessità sicuramente quella di implementare ulteriormente il lavoro sulle manutenzioni in generale, va dal verde pubblico alle strade a quello che è il patrimonio un po' cittadino, in marciapiedi, tutto quello che è. Quindi una continuità sapendo che bisogna comunque concentrarsi anche sotto questo punto di vista. Rossi, le faccio una domanda brutale. Lei è di Apecchio, quindi diciamo un avamposto della provincia, forse il primo ma molto decentrato. Se un cittadino ha un infarto a Serravale di Carda, cosa succede? Quanto ci mette ad arrivare l'ambulanza? Allora innanzitutto se parla di infarto stiamo proprio inaugurando in questi giorni due lì superfici, una l'abbiamo fatta a Carpegna e una la faremo a breve ad Apecchio. Dico la verità, l'opera della precedente giunta regionale, ma che dopo tanti anni si è concretizzata con questa giunta regionale. Quindi una prima risposta alla prima emergenza con le lì ambulanze per dare delle risposte anche entro i termini previsti dal protocollo medico, ma chiaramente questa non è la soluzione. Quindi stiamo cercando di ripristinare anche per quello che c'è possibile, per quello che è consentito dalla normativa nazionale, i piccoli ex ospedali. Quindi tutto il lavoro che è stato fatto per rimplementare il primo intervento a Sasso Corvaro, quello che si farà a Cagli con l'edificazione del nuovo ospedale tramite l'accesso ai fondi del PNRR. Quello che si sta facendo anche a Urbino, chiaramente è un'opera gigantesca perché abbiamo ereditato 30 anni ai noi di malasanità e quindi abbiamo dovuto rimettere le mani innanzitutto alla riorganizzazione sanitaria. Ora partiranno subito gli atti aziendali, i piani aziendali dove cercheremo di dare anche quelle risposte più concrete per i nostri cittadini dell'entroterra. Lei mi parlava di Apecchio, se ti prende un infarto ad Apecchio, Apecchio ha una convenzione anche proprio per vicinanza strategica con l'ospedale di Città di Castello. Io ho proposto in una condizione analoga anche per i cittadini di Cantiano con l'ospedale di Branca di Gubbio. Però i tempi non sono corti. I tempi chiaramente non sono corti, però sono delle risposte immediate che cittadini in situazioni orografiche e geografiche molto distanti dai grandi centri, è ovvio che non possiamo ripristinare gli ospedali come erano una volta in ogni piccolo centro, però dovremmo dare la certezza anche con un sistema emergenziale di ambulanze che fortunatamente c'è avanti anche tramite un bel gruppo di volontariato, parlava appunto prima di Apecchio. Noi abbiamo Apecchio Soccorso che insomma fa tramite anche con la centrale 118 di Urbania. Ecco, dare anche delle risposte, delle risposte già ci sono, ma vanno implementate soprattutto cercando anche di decongestionare quello che è il nostro ospedale di riferimento, qualora ecco ci fosse un infarto che è Urbino. Nel caso, ripeto, di Apecchio e la proposta la stessa con Cantiano c'è questa convenzione con l'Umbria, però un cittadino di Piobbico, un cittadino di Cagli o un cittadino di Pian di Meleto, chiaramente ha come ospedale di riferimento sicuramente Urbino. Ecco, quindi cercando anche di implementare i piccoli ex ospedali, insomma dare... Questi verranno implementati, era un po' la promessa elettorale del centro-destra. Sì, era la promessa elettorale del centro-destra, ci stiamo appunto lavorando, saranno gli atti aziendali che saranno diciamo predisposti a breve che daranno delle risposte precise. Poi dopo, chiaramente ripeto, la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, bisogna ricordare che questa giunta in due anni e mezzo ha subito un anno di pandemia e quindi sostanzialmente tutti i lavori anche in ambito sanitario sono stati dirottati per quell'emergenza, quindi siamo partiti in un anno di ritardo, la burocrazia anche per predisporre gli atti è tanta, però già ci abbiamo messo le mani. Io dico, Sasso Corvaro ne è un esempio, chiaramente anche lì bisogna procedere per la diagnostica per immagini e per il centro analisi che diciamo garantirebbe un punto di primo soccorso completo, ma qualcosa è stato fatto anche nelle difficoltà. Biancani, 30 anni di disastri ha detto, sanità come siamo messi, diciamo proprio in termini pratici. Ti ringrazio, il tema della sanità è un tema complesso a livello nazionale, lo vediamo tutti, dove la carenza di medici, la carenza di risorse sta mettendo in ginocchio quella che è la sanità pubblica. Io devo dire che noi dobbiamo invece cambiare rotta, noi abbiamo la necessità di maggiori investimenti rispetto alla sanità pubblica perché la sanità privata o comunque convenzionata non è come la sanità pubblica. Noi dobbiamo far sì che il personale medico abbia l'interesse a rimanere dentro le nostre strutture, per fare questo dobbiamo aumentare sicuramente gli stipendi, perché oggi sia per il personale medico sia per il personale infermieristico, in generale per il personale sanitario, perché dobbiamo, come dire, convincerli che devono lavorare nella sanità pubblica. Purtroppo le cose stanno andando diversamente, sono sempre di più, soprattutto negli ultimi anni. la Corte dei Conti l'anno scorso ha detto che nel corso del 2021 c'è stato un più 39% di medici che hanno lasciato la sanità pubblica a livello regionale, questo è un dato che ci deve preoccupare tantissimo. Dall'altra parte la sanità, dal nostro punto di vista, quello che è stato il nuovo piano sottosanitario non l'abbiamo condiviso, perché la sanità ha bisogno sempre di più di strutture specializzate in grado di dare le risposte, soprattutto l'emergenza e quelle patologie acute più importanti. Dall'altra invece, fino ad oggi si è voluto lanciare un messaggio che tutte le strutture ospedaliere, sanitarie, sono in grado di occuparsi di tutto, compresa dell'emergenza. Il consigliere Rossi diceva, si parlava di una persona che prende un infarto, una persona che prende un infarto non deve assolutamente andare né a Sassocorvaro né a Cagli. A Cagli è previsto un ospedale di comunità, non un ospedale. Cagli e Sassocorvaro non è un ospedale che è in grado di gestire emergenze importanti. Per gestire le emergenze importanti noi dobbiamo invece, come diceva anche il consigliere Rossi, implementare quelle aree dove è possibile l'intervento dell'elicottero, dell'emergenza, che poi ti deve portare velocemente nelle strutture sanitarie ospedaliere in grado di curare e di affrontare questa emergenza. Quindi sempre di più sanità pubblica, io ho presentato anche una proposta di legge dove chiedo anche di ridurre quelle che sono l'uso dei medici gettonisti che spesso non hanno quella professionalità che viene richiesta a un medico assunto della pubblica amministrazione e per fare questo io chiedo al governo centrale di definire quella che è una tariffa per i medici gettonisti che non possono continuare a prendere quattro volte rispetto al personale del pubblico impiego che ovviamente si vede carichi di lavoro eccessivi e stipendi un quarto rispetto a quelli gettonisti e quindi questo è un tema che secondo me a livello governativo bisogna affrontare e affrontare in tempi rapidi. Rossi, rapporto costa-entroterra, lei appunto diciamo è di apecchio e quindi ne sa parecchio insomma, come bisogna fare per tornare a un equilibrio in modo tale che questi bellissimi territori, questi borghi non arrivino a uno spopolamento? I servizi ci sono? Li state potenziando? Cosa manca? Allora sì, anche per quanto riguarda il piano dei servizi, parlavamo prima di sanità ma anche di infrastrutture, ci sta cercando appunto di mettere mano alla carenza purtroppo decennale che il nostro introterra ha subito. Io parlo di piccole attenzioni particolari ma che fanno la differenza, quelle che per dire abbiamo avuto su una delle arterie più importanti che collega Marche e Dumbre che è la strada regionale 257 a Pechiese o l'interesse che è stato messo nella contessa dove adesso sono partiti dei lavori di ristrutturazione di ponti che stavano sostanzialmente crollando o l'attenzione che è stata messa nel dare uno slancio poi ai lavori e alla progettualità della Fano Grosseto ma chiaramente l'interesse per l'entroterra non è solo legato alle infrastrutture, è legato alla sanità e ne abbiamo parlato prima ma è legato anche all'attenzione che la regione comunque sta dando. Adesso ci sono in atto politiche anche promozionali del nostro entroterra, la legge sui borghi, tante iniziative e una nuova attenzione che la regione sta dando al nostro entroterra anche solo sostanzialmente come presenza fisica della regione, anche informativa. Questo è un nuovo iter che abbiamo aperto con la nuova giunta appunto di confronto con la cittadinanza su tante tematiche, dalle tematiche agricole ma che riguardano insomma a 360 gradi tutto il panorama diciamo sociale, quindi un confronto diretto. Per questo io devo fare i complimenti al nostro Presidente Francesco Acquaroli che mai si sottrae al confronto. Ieri eravamo a Durbino al Consiglio Comunale per parlare di sanità, prima ancora eravamo a Cagli in un confronto con gli amministratori locali alla mattina a Cantiano dove si è inaugurato il nuovo depuratore, quindi questo la gente lo vede e credo che questo sia il passo diverso che questa amministrazione ha. I sindaci, i futuri sindaci cosa dovranno chiedere e poi una piccola domanda sul dimensionamento scolastico, anche quello potrebbe portare un impoverimento anche delle scuole che poi chiaramente sono uno dei nodi principali della vita quotidiana. Ecco, entriamo subito sull'argomento, io ho chiesto questo e l'ho detto sia al direttore scolastico regionale ma anche al presidente della provincia, non possiamo fare la guerra dei poveri, quindi bisogna che gli amministratori e chi ha le competenze in questo ridimensionamento che non è voluto dalla regione ma è voluto da enti chiaramente superiori, c'è bisogno appunto dicevo di un confronto, un confronto che possa trovare delle soluzioni, chiaramente se c'è un ridimensionamento qualcuno ci rimette, se qualcuno ci rimette è necessario un controbilanciamento, quindi al di là delle appartenenze politiche, al di là delle appartenenze territoriali bisogna metterci tutti intorno a un tavolo e trovare una soluzione condivisa, se noi andiamo a fare la guerra dei feudi andiamo verso un gioco al massacro che sicuramente porterà anche strascichi poco piacevoli anche nel territorio. Le esigenze sono tante, nessuno chiaramente vuol perdere le sue posizioni acquisite da tempo, è bene che si avvii veramente un dibattito tra regione, provincia, comuni e dirigenza scolastica per trovare le migliori soluzioni. Cioè chiaro, la preoccupazione di perdere appunto qualche istituto scolastico e quindi un servizio così fondamentale per il territorio. Biancani, allora in questi giorni avete votato la legge urbanistica che diciamo è stato quasi un parto perché ci sono voluti cinque sedute, tantissimi emendamenti, quasi 400 emendamenti, l'economia è un nodo chiave anche per la politica del territorio, che cosa fa questa legge urbanistica e quali sono i punti negativi che voi avete sottolineato? Sì, ringrazio per la domanda, volevo un attimo tornare un secondo se mi consenti, rispetto che giustamente il Consigliere Rossi faceva riferimento a questa nuova attività di miglioramento del sistema stradale più importante a livello provinciale, mi riferisco alla Montelabattese, alla Fogliense, alla Pechiese, alla Metaorense, alla Cisanense, i lavori di cui parlava il Consigliere Rossi sulla Contessa sono possibili grazie, ma lo sappiamo tutti e due, grazie al passaggio che c'è stato nel 2018, dove la Regione Marche ha portato queste strade a tornare ad essere strade statali. Senza questo passaggio oggi non avremmo attualmente, ci sono annualmente decine di milioni di euro di investimento grazie ad Anas e se guardiamo queste strade degli ultimi 4-5 anni sono state completamente rimigliorate e messe in sicurezza. Questo è un risultato del governo precedente, ad oggi non mi riferisco in particolare al Consigliere Rossi, ma la Giunta regionale sta facendo tutta una serie di annunci di nuove strade, ma non abbiamo visto neanche un nuovo progetto, neanche una nuova strada realizzata grazie a questo governo regionale, ma quello che vedi sono tutte strade dove interviene Anas grazie al passaggio che la Regione Marche, governo Cediscioli, ha portato avanti. Per quanto riguarda la legge urbanistica non la condividiamo per niente, i temi sono principalmente due. Dal 1 gennaio del 2024 non c'è più il piano a casa, quindi la possibilità di poter ampliare edifici appresentando fino dal 20 al 40%, presentando delle semplici pratiche dal punto di vista tecnico non c'è più. Oggi l'ampliamento massimo consentito con la nuova legge è il 20%, per poterlo ottenere bisogna fare una vera e propria variante urbanistica, occorre un passaggio in Consiglio Comunale, occorre che venga dichiarato il pubblico interesse e occorre per tutti quegli ampliamenti al di sopra di circa 30 metri quadri un parere vincolante della Commissione Paesaggio. A tutto questo si aggiunge che a tutt'oggi l'attuale norma prevede, cioè quella che entrerà in vigore dal 1 gennaio, prevede che addirittura sia necessario un accordo tra il Ministero della Cultura e la Regione per individuare su quali immobili sarà possibile realizzare questo ampliamento massimo del 20%. Le zone A, cioè i centri storici principalmente sono escluse da questo tipo di intervento come lo era prima il Piano Casa, le zone B, C e D è possibile farlo, ma ripeto, sarà possibile farlo solo in quelle zone che avranno individuate dall'accordo Ministero della Cultura-Regione. L'altra parte della norma si occupa invece della pianificazione, cioè di quello che è la programmazione e la progettazione del futuro delle città, della pianificazione, prima era una competenza completamente in mano ai sindaci e ai consigli comunali, oggi la Regione e il Ministero della Cultura entrano nella pianificazione. Dal mio punto di vista è sbagliato perché si torna indietro dei 30 anni dove non c'è più l'autonomia dell'amministrazione comunale di poter decidere il futuro dello sviluppo del proprio territorio, ma c'è una Regione e un Ministero della Cultura che vogliono dire anche loro l'ultima parola. Rossi è così? Perché poi diciamo... Allora, in questo Biancani un po' esagera. Diciamo che è una legge urbanistica che aspettavamo da oltre 30 anni, una legge che è stata discussa nel territorio, io ripeto, sono stati fatti 48 incontri nel territorio, preventivi e dopo. Quindi a pochi giorni dell'approvazione della legge qua in provincia ci siamo confrontati a Fano, di fronte a tutte le categorie, di fronte a tutti i sindaci e nessuno ha alzato la mano dicendo A o B. Chiaramente ci sono delle perplessità da parte delle opposizioni, ci sono delle parti che possono essere anche migliorate, noi questo lo abbiamo detto anche in Corsiglio. Certo è che è una legge che si è avuta con un confronto, chiaramente non solo all'interno delle istituzioni in terza commissione, io faccio parte della terza commissione e veramente abbiamo audito anche il gatto, come si suol dire, abbiamo audito anche il gatto e poi siamo andati anche fuori nel territorio in questa condivisione. Io come ho detto in consiglio, ditemi quale legge delle precedenti amministrazioni regionali sia stata condivisa con la gente fuori, chiaramente all'interno delle istituzioni sì perché in terza commissione e nelle commissioni è obbligatorio l'iter. Però ditemi quale legge sia stata condivisa apertamente di fronte a tutti. Ecco, questa è una legge che chiaramente ha avuto anche tanti emendamenti, quindi ci sono stati anche tanti cosiddetti ripensamenti, miglioramenti all'interno della legge stessa, cioè la legge perfetta non esiste ma è sicuramente un qualcosa che la nostra regione aspettava e ripeto, tra l'altro la regione metterà anche delle risorse importanti per i nuovi piani regolatori che i comuni dovranno predisporre, quindi ecco il confronto è aperto, tra l'altro lo annuncio perché è stato detto anche dall'assessore, verranno fatti anche dei confronti con i tecnici comunali per approfondire meglio i dubbi, anche per sfatare magari qualche dubbio messo dal collega Biancani, ma ci sta, però è chiaro che ripeto si cerca di fare qualcosa sicuramente che vada a migliorare questa normativa. Allora siamo in chiusura, Pesaro capitale della cultura 2024, come sapete una capitale che viene condivisa con tutti i comuni della provincia, la domanda è come ci arriviamo poi con il trasporto pubblico ad Apecchio, a Frontino, a Frontone, si può fare? Allora, sul trasporto pubblico io ho presentato proprio qualche settimana fa, oramai credo qualche mese fa, una mozione dove si impegna il governo centrale a trasferire maggiori risorse alla nostra regione per quanto riguarda il trasporto pubblico, mozione che tra l'altro è stata votata anche dal consigliere Biancani e dal gruppo di minoranza perché noi siamo la regione percentualmente più svantaggiata per quanto riguarda le risorse che il governo trasferisce. Vediamo adesso a che punto è questa mozione, la rinforzeremo con delle interrogazioni sia al Senato sia alla Camera perché è giusto che se arriva una mozione dalla regione il governo in qualche maniera la recepisca, ecco anche perché c'è questo squilibrio da sanare, sicuramente servono più trasferimenti statali ma serve anche una maggiore chiaramente riorganizzazione di tutto quello che è il trasporto pubblico locale. Credo che anche le aziende del trasporto locale una mano la diano anche in previsione chiaramente di Pesaro, capitale della cultura, anche perché come dicevi tu è un evento che non coinvolge solo Pesaro ma coinvolge tutti i 50 comuni della provincia e sostanzialmente se vogliamo fare rete bene anche che ci sia un'implementazione dei trasporti pubblici più funzionali anche alle esigenze di questo grande evento. Biancani siamo in chiusura, un flash proprio sulla capitale della cultura, lascerà un indotto oppure sarà un'occasione diciamo che non riusciremo ad affrontare fino in pieno? No, dal mio punto di vista sarà una grandissima opportunità per la città di Pesaro, per la provincia di Pesaro ma anche per l'intero territorio regionale. Devo dire perché ho fatto diverse interrogazioni, ho fatto diversi anche comunicati, la regione Marche è stata completamente assente in questo percorso. Ad oggi siamo i primi di dicembre, a poche settimane dall'inizio di Pesaro, capitale della cultura 2024, ancora la regione Marche non ha stanziato un milione di euro promesso. Ricordo il presidente Acquaroli aveva promesso un milione, questo milione era stato stanziato, 500 mila euro poche settimane dopo sono state stornate per un progetto nel 2022 ritenuto più urgente rispetto a Pesaro, capitale della cultura. La regione Marche penso non abbia partecipato alla formazione del programma quasi per niente e quindi la regione non ha saputo cogliere per niente questa grandissima opportunità. Il comune di Pesaro ha deciso di coinvolgere tutti i comuni della provincia di Pesaro Rubino, quindi allargando quest'opportunità a tutto il territorio, ma purtroppo anche se le risorse verranno messe come ha promesso l'assessore entro fine anno, io dico sempre che un'amministrazione per poter programmare deve avere la certezza delle risorse. Pesaro in questo caso si è trovata sola perché la regione non ha dato quel supporto necessario né economico né di promozione. Ricordo che sono andato alle varie fiere legate alla promozione turistica, l'ultima questa al TTG di Rimini, Pesaro capitale della cultura aveva un tavolino e una sedia come qualsiasi altro tipo di realtà privata che fa turismo in cammino o promozione turistica del territorio e non c'era un cartello evidente che rendeva evidente che la regione Marche per il 2024 era con Pesaro capitale italiana della cultura. Però se è così? In parte, su una maggiore promozione sono d'accordo, ma i soldi ce li abbiamo messi e ce li stiamo mettendo. Ancora non ci sono. 500 mila euro già messi e 500 mila euro che saranno già e che sono stati già inseriti nel briancio di previsione, quindi per il 2024 Pesaro aveva il suo migliore di euro e dimostra l'interesse che c'è la regione, poi sulla promozione magari si poteva fare di più ma sicuramente la regione darà un nuovo slancio anche per sostenere questo grande evento. Io mi auguro che sia così, ma ritengo che la regione non doveva mettere un milione promesso. Ad oggi non ha messo neanche quello promesso, ma doveva mettere molto di più. È un'opportunità storica che la regione Marche non ha saputo cogliere. Io mi auguro che recuperi, come dice il consigliere Rossi, il tempo perduto ma questo dobbiamo mettercelo tutti nella testa, non è un risultato della città di Pesaro è il risultato di tutta la provincia ma appunto di tutto il paese. Rossi, per chiudere, proprio un flash, allora amministrative 2024, cosa succede? Ci saranno più di un ribaltone secondo voi? Mi dispiace per il collega Biancani, ma ci sarà un cambiamento anche a Pesaro come è avvenuto ad Ancona, anche perché la gente dopo un tot di tempo si stanca anche di vedere sempre le solite facce negli uffici sempre le solite persone dietro a determinati progetti, eccetera e credo che Pesaro abbia bisogno, come ha avuto bisogno Ancona, di cambiare. Fano e introterra? Fano e introterra, ecco, anche a Fano. Speriamo di trovare la quadra e nell'introterra chiaramente, visto che c'è il sottoscritto ci saranno anche dei buoni risultati. Biancani invece? Io penso che se Pesaro ha ottenuto questo risultato di Pesaro, capitale della cultura e se le persone che conosco personalmente, addirittura che vengono a vivere per motivi di lavoro a Pesaro, decidono in gran parte di comprare la casa Pesaro vuol dire che trovano in Pesaro una città accogliente, una città solidale una città che propone tantissimi servizi, una città dove si sta bene e tutto questo lo si deve sicuramente grande, sicuramente anche alla capacità di governo che questa città ha saputo dare nel corso degli anni. Grazie allora a tutte le telespettatrici e telespettatori di Rossini TV per aver seguito Amministrando, vi aspettiamo come sempre qui nel salotto della politica Rossini TV. Buonasera a tutti. Buonasera. Balzano Consulting Group Seguiamo i tuoi lavori di ristrutturazione dall'inizio alla fine Pensiamo a tutto noi Siamo esperti nella redazione della relazione tecnica integrata in caso di compravendita E ricorda, il super bonus del 110% è valido fino al 2025 per questi comuni Fidati anche tu dello studio Geometra Balzano Consulting Group Passione e competenza in campo, ogni giorno Noi di RB Plast abbiamo tutto quello che ti serve Da sempre siamo rivenditori di tapparelle ed infissi in diversi materiali come PVC, alluminio e legno alluminio Porte da interno della ditta Ferrero Legno Porte blindate, grate di sicurezza, zanzariere e persiane Vieni a scoprire tutti i nostri prodotti E approfitta delle nostre condizioni vantaggiose nello showroom di Via Flaminia 300 a Pesaro Comis, a Pesaro dal 1994 Opera nel settore della progettazione e realizzazione di sistemi di trasporto a olio e gas Grazie alla competenza del proprio staff 100 dipendenti, con tecnici altamente qualificati Tramite il proprio sistema di gestione integrato qualità, ambiente, sicurezza e responsabilità sociale Comis implementa continuamente le proprie risorse e le capacità tecnico-professionali Per garantire ai propri clienti servizi integrati di progettazione e direzione lavori di elevata professionalità Sviluppando sistemi innovativi e a basso impatto ambientale nel settore dell'oio e gas Comis, progettiamo le infrastrutture per andare a tutto gas